Grazie, buongiorno a tutti, grazie per essere qui in così tanti, in una domenica in cui le condizioni climatiche magari non aiutano. Io sarò breve anche perché poi mi stanno aspettando quartiere Saragozza e poi dopo devo andare a Calcara perché come avevo detto nelle settimane in cui ho presentato la mia candidatura ho detto a tutti i territori non mi vedrete solo quando è il momento di chiedere un consenso ma mi vedrete sempre e quindi ho iniziato sin da subito e il mio primo atto formale è stato a convocare per mercoledì l'assemblea dei seretari di circolo, di zona, di quartiere assieme ai tesorieri per fare il punto e ricostruire un rapporto diverso tra il partito centrale, i nostri circoli, i nostri territori perché di questo c'è indubbiamente bisogno. C'è bisogno di un partito che sia presente, c'è bisogno di un partito capace di ascoltare prima che dare delle risposte perché l'ascolto reciproco non può avvenire solo in una sola direzione, c'è la federazione che arriva nei circoli dicendo questo è il documento, questo è l'esito già scritto, ratificatelo perché così facendo noi ci troveremo sempre in di meno, con sempre meno passione politica e con sempre meno possibilità di incidere nei grandi processi di cambiamento che stanno riguardando i nostri territori. Dico quindi alcune cose che sono emerse nel corso del dibattito, io mi trovo molto d'accordo con le riflessioni che hanno fatti in apertura Giuseppe Parola e Andrea De Maria rispetto alla necessità di ridare centralità alla politica. Guardate, io ho fatto il capogruppo in Consiglio Comunale per gli ultimi due anni qui a Bologna e credo che ci sia una necessità che emerge tanto in città quanto nei comuni del nostro territorio, vedo alcune persone qui che mi hanno già ascoltato dirlo in altre parti della nostra federazione. Noi abbiamo bisogno di un partito che sia autonomo, che sia autonomo da qualsiasi tipo di potere, da qualsiasi tipo di influenza possibile e immaginabile e abbiamo bisogno di un partito che sia capace di sviluppare e di produrre una propria elaborazione politica, da mettere a disposizione di chi governa, in modo che il partito possa sostenere con grande lealtà chi governa i nostri territori, ma lo possa fare sulla base di una propria piattaforma politica, di una propria scala valoriale, con delle idee chiare e riconoscibili, perché cosa ci chiedono i cittadini? I cittadini chiedono al Partito Democratico di indicare delle idee, delle riflessioni, delle risposte. Quando ci fermano per strada e ci chiedono cosa ne pensa il tuo partito di un problema, noi gli facciamo fatica a rispondere. O perché sul medesimo tema ci sono dieci posizioni differenti a seconda della corrente o della sottocorrente di appartenenza, o perché, cosa che negli ultimi anni probabilmente abbiamo fatto, per evitare discussioni vere, franche, a volte anche divisive, abbiamo scelto la via che da una parte poteva sembrare più comoda, ma dall'altra poi produce dei danni a medio lungo periodo di non discutere di nulla. Allora io sotto il mio mandato da segretario questo trend pretendo di invertirlo. Lo voglio fare assieme ai circoli, lo voglio fare assieme a tutti voi, ho presentato un documento e una candidatura che era sicuramente diversa rispetto a quella di Marco Lombardi e di Dario Mantovani, che sono due persone assolutamente degnissime e rispettabilissime, che vedono il partito in maniera diversa da come lo vedo io. L'Assemblea si è espressa e credo che noi si debba avere una grande capacità. Io l'ho detto subito, appena proclamato domenica scorsa l'Assemblea, io mi sento e voglio essere il seretario di tutto il Partito Democratico, di chi voleva il congresso piuttosto che l'Assemblea, di chi ha votato per Dario Mantovani, di chi ha votato per Marco Lombardo. Noi dobbiamo essere un partito e per essere un partito bisogna che dal momento in cui si chiudono le urne della scelta dei gruppi dirigenti si smetta di essere rappresentanti di questo o di quella parte e si sia tutti un partito. Questo però non deve significare due cose, né un finto unanimismo che ci conduce in una modalità indistinta in cui noi siamo incapaci di discutere e di prendere delle decisioni, né nel tentativo che io, conoscendo i miei interlocutori, sono sicuro non essere presente nelle loro intenzioni, né il tentativo di intestarsi alcune posizioni per poi poter condizionare l'operato del seretario, magari rivendicare in quanto corrente di minoranza dei posti o delle posizioni di vantaggio. perché così con me non sarà. Io sono una persona molto determinata, penso che la politica debba iniziare a usare il linguaggio della verità e della chiarezza e penso che a partire dal nostro confronto interno si debba essere capaci di andare oltre quel detto, quel non detto, quel tenere un po' anche alcuni termini da parte per paura di dispiacere qualcuno. Noi riacquisteremo il ruolo del Partito Democratico e restituiremo al nostro partito la funzione per cui un partito è deputato, cioè quella di essere il luogo in cui un cittadino partecipa, un luogo in cui una persona dice mi iscrivo al Partito Democratico non per avere lo sconto su un'iniziativa culturale nella nostra città. Perché noi abbiamo avuto nei mesi scorsi dei gruppi dirigenti che sono arrivati a dire per rilanciare il valore della tessera proponiamo uno sconto sulle attività culturali. Ecco, io forse sarò abituato a un'idea di partito differente, ma magari, e questo sarà il mio primo compito, scegliamo chi sta in sede e riesce, scegliamo i gruppi dirigenti con un po' di criterio. Che si sappia che chi è dirigente del Partito Democratico di Bologna deve avere la capacità, la serietà, la compostezza, la sobrietà necessaria per poter dire alla città io sono all'altezza di quel compito e per questo nel documento ho parlato di autorevolezza, per esempio. Allora restituire dignità alla nostra tessera, restituire dignità a momenti come questi in cui noi dedichiamo una parte della domenica al confronto tra di noi, lo faremo solo se saremo capaci, e questo è innanzitutto compito del seretario e delle persone che aiuteranno il seretario, di ribaltare la modalità con cui ci si confronta. Allora arrivo per esempio alla conferenza programmatica. La conferenza programmatica non sarà il classico rituale in cui noi vi consegniamo un esito già predeterminato o in cui, come dire, costruiremo il confronto in modo che l'esito sia comunque quello immaginato in qualche stanza da 10 o 12 persone. La conferenza programmatica, perché a me piace essere coerente tra quello che dico e quello che faccio, sarà un grande momento in cui noi ci prenderemo due mesi, due mesi e mezzo per stare nei nostri circoli, ma per non parlare solo con i nostri iscritti, con i nostri militanti e con i nostri elettori. Noi ci dobbiamo allargare al mondo dell'associazionismo, al mondo del volontariato, ai mondi della cultura, del lavoro, dell'impresa, però li dobbiamo portare nei nostri circoli, perché il partito, il luogo in cui si discute, in cui si prendono le decisioni, ed è il partito che guida i processi. E questo lo facciamo se saremo capaci di fare un lavoro insieme. Io credo che si debbano indicare alcuni temi, alcuni temi di discussione, il lavoro, poi dirò due cose sul Jobs Act, le infrastrutture, i grandi processi di cambiamento che le nostre istituzioni stanno vivendo, la nascita della città metropolitana, in città le riforme dei quartieri. Questo è un quartiere che sarà interessato dalla riforma San Vitale assieme a San Donato, ma con una proposta di scorporo della parte del centro storico che andrebbe in quota a Santo Stefano. Noi ne dobbiamo discutere. Noi dobbiamo discutere di come immaginiamo il futuro dei nostri territori. Noi dobbiamo discutere di come, mi fa piacere che questa sia un'intenzione dell'aggiunta del Presidente Bonacini, immaginiamo un nuovo fatto per lo sviluppo, per il futuro dei nostri territori. Io non credo a un partito in contrapposizione con i sindacati, con il mondo della cooperazione, con il mondo economico. Credo a ruoli distinti, lo dicevo prima, ma credo che se l'Emilia Romagna abbia rappresentato da sempre uno dei migliori esempi di buon governo, l'abbia fatto anche perché c'è stata una concertazione positiva. Certo, la concertazione non deve essere una palla al piede, assolutamente. Ma mettendosi attorno a un tavolo e ridefinendo le priorità e le necessità dei nostri territori. Noi non possiamo pensare di andare avanti con un modello che abbiamo disegnato insieme 30 o 40 anni fa. Forse anche questo è uno degli elementi che poi ha portato al 37% dell'affluenza, cioè non essere stati capaci negli anni passati di iniziare a immaginare e costruire il futuro dei nostri territori. Ci siamo arrivati un po' stancamente. Nella nostra provincia si va verso i 100.000 inoccupati e noi abbiamo il dovere di dare delle risposte. Quindi la conferenza programmatica sarà un momento di discussione sui contenuti, di discussione vere in cui io per primo chiedo al mio partito di potersi esprimere con grande franchezza e con grande sincerità, segnalando ciò che va, ciò che va migliorato, ciò che va corretto e portando anche alcuni temi all'attenzione della discussione collettiva. Alcuni sono emersi, io ci batto sempre e continuerò a farlo. L'inchiesta Emilia ci ha dato per la prima volta il quadro molto chiaro di una situazione che probabilmente tutti abbiamo sottovalutato. 117 arresti in Emilia-Romagna per collusioni di vario tipo, tra la criminalità organizzata, pezzi di politica e di istituzioni, pezzi di mondo economico e di mondo del professionismo, ci dicono che il Partito Democratico ha una grandissima responsabilità. Allora io sceglierò chi votare al Congresso regionale anche sulla base delle risposte chiare e degli impegni chiari che il candidato o la candidata saranno in grado di assumersi. Perché ci sono alcuni temi che non sono più rinviabili. Guardate che noi dobbiamo difendere la nostra società e i nostri territori da una presenza che rischia di inficiare fortemente il ruolo e la funzione della democrazia. E chi vi parla lo sa perché come altre persone presenti in questa sala è cresciuta in una terra in cui al concetto della democrazia e del diritto si è sostituito il concetto di favore, di conoscenza, in cui per poter essere un cittadino, per poter sviluppare il tuo diritto all'impresa, il tuo diritto ad avere dei servizi, il tuo diritto ad avere un rapporto positivo con le istituzioni, con le amministrazioni, o sei legato a determinati mondi oppure questo diritto ti è negato. Allora la sfida c'è. La sfida c'è, ci deve riguardare tutti. Io vorrei che noi ci prendessimo questi due mesi, due mesi e mezzo di tempo per fare una discussione vera. Perché non la facciamo da troppo tempo, anzi forse da quando è nato il Partito Democratico nel 2007 abbiamo impiegato i nostri mesi a fare primari, a fare congressi. Ecco perché io ho difeso, ho messo la mia candidatura anche a disposizione dell'Assemblea. Perché il tema non è richiamare i nostri iscritti all'ennesima conto, all'ennesima scelta, in cui in un circolo Francesco Critelli chiama i suoi sostenitori a votare per l'opzione A e un'altra persona chiama i suoi sostenitori a votare per l'opzione B. Non è questo di cui ha bisogno il nostro partito. Il nostro partito ha bisogno di ricominciare a fare politica, di discutere. Per questo alla fine del mio documento, lo diceva bene Loretta, c'è scritto ricominciamo. Anche dicendoci delle cose in maniera molto franca, molto aperta, lo sappiamo. Nel nostro partito esistono delle differenze, esistono delle opinioni sicuramente tra loro diverse ed è bene che vengano allo scoperto. È bene che si discuta, ma è bene poi che si prenda una decisione. Perché io credo che un partito debba discutere sempre, si debba sempre confrontare al proprio interno, nei propri organismi, nella propria base, ma alla fine il partito vota e decide. Altrimenti restiamo nell'indeterminatezza e restiamo sempre, come dire, in balia delle singole dichiarazioni di qualcuno che immagina che magari un po' di visibilità personale possa essere uno strumento utile per la propria carriera. Ecco, la mia idea è completamente diversa. L'ho scritto nel documento. Io non sono per un partito che si trasformi in comitato elettorale. Sono d'accordo con chi di voi ha detto che c'è bisogno di un partito che sia presente e che sia solido, che non significa, attenzione, cadere nella nostalgia di un qualcosa che non è ripetibile o riproponibile, né immaginare che il partito sia quel monolite che dispone con una serie di soldatini che obbediscono. No! Questo non può più essere, questo non deve essere il Partito Democratico di Bologna, ma un partito che ci sia, che sia presente, che dica ai suoi dirigenti e ai suoi amministratori, che non si è lì in nome di se stessi, ma si è lì in nome di una comunità a cui bisogna rispondere, questo secondo me ci aiuterà anche e ha fatto bene chi intervenendo apposto la questione morale, dell'etica, dei comportamenti dei nostri amministratori a dirlo, questo ci aiuterà anche magari ad arrivare un minuto prima della magistratura, perché noi non possiamo essere quelli che scoprono sui quotidiani che qualche proprio amministratore ha avuto determinati comportamenti, noi dobbiamo arrivare prima e arriviamo prima se ci siamo, arriviamo prima se tra la base e i vertici il rapporto sarà tale da poter lavorare insieme. Chiudo su due cose, la prima, la prima è il Jobs Act, quello che è accaduto nelle ultime ore nel nostro Parlamento, io, guardate, ha ragione Domenico Papaleo, perché a volte si rischia di portare il proprio punto di vista ignorando quanto è avvenuto prima, noi non è che siamo intervenuti su un mercato del lavoro capace, come dire, di trasmettere grande prospettiva di futuro ai nostri giovani, ai nostri anziani, probabilmente ci saremmo dovuti interrogare un po' di più anche ai tempi della Fornero, delle riforme degli ultimi anni. Quindi io credo che ci sia una responsabilità delle classi dirigenti del centro-sinistra che non possiamo imputare al solo Matteo Renzi, non saremmo corretto e non saremmo intellettualmente onesti. Certo, quello che è accaduto con i decreti attuativi mi lascia un po' perplesso, questo sì. Mi lasciano un po' perplesso due cose, uno, visto che ho fatto il capogruppo e sono consigliere comunale come Daniela, come Angelo, quando si impegnano i propri gruppi e quando si porta i propri gruppi, siano essi in un comune, in una regione, in un Parlamento, a prendere una posizione capace di ricompattare il partito, di quella posizione è bene tenerne conto, perché questo ci aiuta, perché questo è stato il metodo Mattarella, partire dall'unità del Partito Democratico e quando noi siamo uniti dopo la nostra discussione riusciamo ad essere noi la forza che trascina gli altri rispetto a determinate scelte, dall'altra leggere stamattina il Ministro Alfano che festeggia sostanzialmente la fine dello Statuto dei Lavoratori, qualche perplessità me la lascio. Ora io capisco che ci sia, come dire, anche da parte del Ministro Alfano la necessità di segnare una posizione per il suo partito e va bene. Ritengo però che se il sottosegretario del Rio, che è persona saggia, ha detto guardiamo da qui a un anno cosa accade, usiamo questo anno però per fare un'analisi vera, delle ricadute di un provvedimento che ha sicuramente degli elementi positivi ma che rischia di indebolire ulteriormente un mercato del lavoro che di per sé già non premia né la possibilità per le giovani generazioni di avere di fronte a sé un futuro stabile, non premia neanche quella fascia d'età che è troppo giovane per andare in pensione ma contemporaneamente troppo vecchia per poter essere ricollocata. Le sfide che ci attendono sono tante, le sfide che ci attendono sono difficili, la strada sicuramente non è delle migliori perché il dato delle elezioni regionali ci consegna un livello di sfiducia come mai l'avevamo visto prima, tra i cittadini, i partiti e le istituzioni e questo riguarda interesse innanzitutto noi, Partito Democratico che siamo la vera forza di governo di questi territori, quindi noi dobbiamo ricominciare a lavorare insieme, noi dobbiamo sapere quando alla domanda di Daniela se c'è preoccupazione, certo che c'è preoccupazione, è evidente, l'ho anche detto pubblicamente, nessuno di noi potrebbe ignorare quel messaggio che ci è arrivato il 23 novembre, quando nella terra della partecipazione più di sei elettori su dieci decidono di stare a casa, vuol dire che c'è da fare una riflessione così profonda che la preoccupazione non può che albergare nei gruppi dirigenti e nella base saremmo degli irresponsabili, se immaginassimo che quel dato non ci consegni un punto interrogativo e non ci chiede di assumerci delle responsabilità, io vi chiedo di prenderceli insieme perché ho detto che bisogna ripartire dai circoli, ho detto che i circoli devono diventare il nostro motore della nostra azione politica, per questo ho ricominciato sin da subito a percorrere lungo e largo, il seretario deve essere presente e i circoli devono ridiventare il vero organismo di produzione politica del nostro partito, ne abbiamo le intelligenze, ne abbiamo le capacità, abbiamo personalità adeguate, il partito farà la sua parte non solo dandovi ascolto, ma creando le condizioni perché il vostro pensiero e le vostre riflessioni possano diventare la posizione vera che noi esprimiamo a livello di partite e a livello di amministrazione, lavoriamo insieme, i punti su cui discutere non mancano, sono tanti, c'è da scardinare anche una certa riflessione, io ho capito il passaggio che ha fatto Giuseppe in apertura sul passante Nord pur senza citarlo, io sono d'accordo con la prima parte del ragionamento, quando dice noi non possiamo mettere in campo delle opere o delle infrastrutture solo per dire l'abbiamo realizzata, sono d'accordo, è evidente che c'è una posizione dei nostri dieci sindaci interessati di cui bisogna tenere fortemente conto, ci sono in particolare alcuni comuni, penso a Calderara, penso a Funo, dove l'attuale progetto di autostrade presenta delle criticità in mani, attualmente ad oggi il passante Nord a Funo passerebbe in mezzo ai palazzi e questo è un problema, io credo però una cosa, io incontrerò a breve sindaci interessati, farò anche una discussione più ampia con tutti i sindaci del nostro territorio, l'assessore regionale deputato e il nostro ex segretario Raffaele Donini, dico una cosa e concludo, una decisione però va presa, va presa sul passante Nord, va presa in generale sulle scelte strategiche che riguardano i nostri territori, perché Giuseppe se è vero che noi non possiamo adottare una linea per cui le cose si fanno semplicemente per poter dire che le abbiamo fatte, non possiamo però neanche permetterci di diventare il territorio in cui si discute per 10, 15, 20 anni sempre delle stesse cose, ogni volta poi non portiamo mai a casa nulla. Se si fa che si faccia seguendo le indicazioni dei nostri sindaci, seguendo le indicazioni che provengono dai territori, se non si fa che si prenda comunque una decisione, si cerchi di capire come provare a salvaguardare quei fondi che a noi servono tanto, per avere delle strutture infrastrutturali di tipo differenti, c'è ragionamento sull'SFM, abbiamo visto quanto sono stati importanti per la nostra città recuperare i fondi dell'ex metro che ci consentono di potenziare il sistema di trasporto pubblico, prendiamo delle decisioni. Noi non possiamo più permetterci di essere un partito e dei territori che discutono, discutono, discutono e non arrivano mai a nessuna conclusione, perché il messaggio che lanciamo ai cittadini diventerebbe solo un messaggio di incertezza, un messaggio di scarso coraggio, un messaggio anche di scarsa capacità di guida. Lo dobbiamo fare tutti insieme, io confido molto nel vostro lavoro, ho detto domenica non in maniera scherzosa ma molto seria, tirate le orecchie al segretario, perché se i gruppi dirigenti non assolvono bene al loro compito voi li dovete richiamare alle loro responsabilità e dovete richiamare alle responsabilità per cui sono stati eletti e in questo modo io credo che insieme saremo capaci di rimettere al centro il nostro partito e di restituire ancora di più ancora una volta al nostro partito quel grande ruolo e quel grande significato di cui c'è bisogno. Vi ringrazio.